Abbiamo di fronte Massimiliano Pesenti, il bomber della formazione Buceleste, autore di ben sette reti nella passata stagione. Massimiliano, nella stagione sportiva da poco conclusa, hai finalmente trovato la continuità che ti è mancata in passato. Cosa puoi aggiungere? Decisamente sì perché era più o meno a due anni e mezzo che non riuscivo a tirare insieme quattro o cinque partite di fila e finalmente ho trovato la cosa giusta per riuscire a trovare una continuità. Perfetto. E cosa ti aspetti per la stagione che sta per iniziare? Tenuto presente che oltretutto quest'anno non abbiamo le retrocessioni, è importantissimo? Mi aspetto un campionato un po' anomalo, ci saranno squadroni che faranno di tutto per salire e magari altre che vanno un po' più di giovani. Però secondo me sarà un campionato molto combattuto e speriamo noi di fare meglio dell'anno scorso senza i punti di penalizzazione. Quanto meno di poter agganciare le prime posizioni. Sì, decisamente. E tenuto presente da quelli che sono i giocatori la rosa a disposizione di Madonna, Cisse, Belotti, Persone e i vari tequartisti che compongono questa rosa. Quindi è una rosa ad azione notevolmente offensiva. Cosa ne pensi? Ma penso che siamo rimasti più o meno tutti i giocatori che eravamo l'anno scorso, quindi ci troviamo meglio ancora dall'anno scorso, quindi secondo me possiamo fare molto bene là davanti. Quindi con questi giocatori io aggiungerei Cisse, Belotti e Presenti, tutti e tre in doppia cifra, arriviamo a 30, 40, 50 gol, tutti e tre a motivi e salire magari direttamente in me. Lo speriamo per noi e lo speriamo per i tifosi. Ci risentiremo più avanti. Grazie mille.